ciao a tutti io sono ilenia e bentornati in questo nuovissimo video oggi reaction alla 6x17 di vikings attenzione agli spoiler perché ce ne saranno e andiamo a vedere quindi adesso questa settima puntata della 6b che non solo conclude la sesta stagione di vikings ma conclude anche vikings stesso e vi lascio comunque su nelle schede la playlist di tutte le altre reaction se le volete recuperare e partiamo subito con la reaction alla 6x17 ovviamente non mi fido affatto mentono su tutto ma vuoi andare in guerra con lui certo ci capiamo l'un l'altro e anch'io è così che vanno le cose pare funzioni con me mentire non funziona forse ibar non ha intenzione di ritornare può darsi e tua stiamo sistemando la tua flotta questo gusto non fa che ricordarmi il grande costruttore flochi motorra non lo sento dirmi che non ne hai sentito parlare il famoso ragnar lottbrok navigò in inghilterra in francia infine nel balalla sulle navi di flochi le conosciuto certo che lo conoscevo chi non lo conosceva avanti ora forse i migliori se ne sono andati flochi diceva che le sue navi non sbattevano contro le onde come capre ma le attraversavano come un'increstatura spero che i nostri artigiani siano abili quanto lo erano bella grazie devo parlare con te stiamo per partire per l'inghilterra sono impazienti forse non dovresti perché non parte non lo fa partire ciò che nel qual caso devo lasciare qui qualcuno di cui mi fido per difendere la città e non mi interessa questa è casa tua appartieni a Kattegat tu non dovrai più rischiare nulla ottenere alcun che quindi ho deciso di lasciarti al comando di Kattegat ufficialmente tu e Ingrid regnerete in mia assenza in realtà io ho deciso di elevarti a sovrano temporaneo se tu e Ingrid vi sentirete avrai l'ultima parola grazie perché fai questo? stiamo giungendo ad una conclusione occorre prendere decisioni che intendi per giungere a una conclusione? non lo so per certo ma lo sento nelle ossa e che state parlando voi due? di che? del futuro io partirò e tu Ingrid rimarrai qui per dare alla luce nostro figlio ho ordinato che tu ed Erick vi uniate nel regnare in mia assenza regnerò io Erick organizzerà le difese sarete corregnanti è la mia decisione sono certo che voi due giungerete ad un accomodamento io non ci credo sinceramente perché hai deciso di partire? io sono un vichigo non sono fatto per insediarmi per restare ho bisogno di essere in viaggio un giorno ne sono certo saremo tutti sedentari ma nel frattempo riparerò ancora le mie navi affilerò la mia ascia e andrò per mare amo sentire il vento tagliente la salsedine sulla mia faccia e quando li sento sono un libero sono un libero sono un libero si sta innamorando tutti che si fa adesso muore anche i torbi vedete? guardiamo che stanno poverino che va che va che si ti guarda da là? che si ti guarda da là? che gli dai ti accompagna che gli dai ti accompagna ciao amico non so se i due si divertono insieme sicuramente si divertono guardalo guardalo pe bollo che è ruissimo che va divertir non ho mai avuto fortuna con le donne guardalo guardalo sarà un miglior qui ok Immagini e scoprile Grazie a Dio e alla sua misericordia per aver protetto il Wessex per lungo tempo dal terribile flagello dei vichinghi e dei pagani Il Wessex rende grazie al nostro amabile sobrano Alfred e alla providenza di nostro signore Gesù Cristo Abbiamo sobrano un attrago di un loro corpo Dio onnipotente di concederci la forza per respingere e distruggere i pagani se mai dovessero far ritorno a queste terre cristiane benedette Dio salvi il re Dio salvi il re Dio salvi il Wessex Dio salvi il re intanto questi salvi chi ha e ora diciamo la preghiera che Gesù insegnò ai suoi discepoli Mater nostra qui est in Cielis Santificetum Nomen Tu Advenia Regnum Tu Fia Volontas Tua Sicut in Cielo et in Terra Pane nostrum quotidiano da nobis on et divite nobis temita nostra Sicut et nos dimittimus debitorimus nostres et le nostre et le nostre ducas in tentazione sed libera nos Amen Amen ho una faccia familiare questo qua mi ricordo di averlo già visto non credo dovremmo attaccare il palazzo reale i sassoni devono aver migliorato le fortificazioni e le difese concordo dobbiamo stanare il re dalla sua roccaforte e forzarlo ad affrontarci dove vogliamo noi sarebbe qui mi ha detto me la ricordo Ragnar mi portò su per la ripida collina oltre la città fino ai bastioni di un'antica rocca e guardando giù nella valle disse ecco il luogo perfetto per una battaglia a este rey no ma cosa pensi stavo pensando speriamo che non cammini secondo me pensavo un po' il contrario sta spiando prendermi il posto nel tuo letto niente è stato deciso Harald è partita forse per non tornare più e tu non l'hai mai amato vi siamo a te ma non significa sì invece sono l'incoronatore ho salvato la vita a Bjorn ho salvato la vita ad Arab quindi cosa ti sei peppato fra te sei davvero sicuro di voler sposare una strega sì penso che sarebbe molto eccitante cioè che si incinta di Bjorn però forse no forse quasi sicuramente di Harald la strega che si sa o chi deve sta ma sicuramente si sfusa con qui su togliti la mano ecco ma che problemi hai sorella e adesso sono giro ma che cosa stai fare Voglio vedere i segni Mi dico cosa? Ma perché lo stia facendo? Ma poverino Stoffa impressione Sempre un po' di buono Che dici? Sì Ma non è lì 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 Ho capito Che è questo Ma me lo ricordo Ecco perché mi sembrava Familiare Sì sì Era un po' di burro Stoffrino Stoffrino Alfred sta radunando Un esercito Dobbiamo trovare qualcosa da mangiare Non sei obbligato a venire con me Sei troppo importante Per rischiare di essere catturato O ucciso dai sassoni Sì sì Partiremo all'alba Gli esploratori ci dicono che l'esercito vichingo è accampato più o meno qui Forse progettano di incontrarsi con colonie vichinghe o bande armate lungo il confine Commercia o altrove Immagino per incrementare ancora la consistenza delle forze È un esercito che non si può ignorare Ma dovremmo comunque tentare di affrontarlo Dobbiamo seguirne i movimenti Ma anche preparare le nostre forze a portarsi qui a Cicister Abbiamo un'ampia guarnigione e l'accesso al mare Così qui dovremmo evacuare Sì Non so dire quanto mi addolori Che messaggio comunica al resto del Wessex il fatto che il re voglia abbandonare il suo palazzo? Suppongo verrà recepito come un segno di debolezza E sfortunatamente siamo deboli Siamo circondati da nemici e affrontiamo un altro grande esercito vichinico Non si dovrebbe temere la verità Mia dolce Hemsworth Che differenza farebbe se mi attassi forza? Meglio essere onesti Affidarsi al Signore Ed essere pratici È questo che ho imparato Non lo sopporto Io non sopporto che siano gli stessi vichinghi che uccisero tuo nonno e tuo padre Ed eccoli ancora qui Non se ne andranno mai Loro devono sempre averla vinta Anche quando sono sconfitti Loro vincono Che vuoi dire? Per quanto siano sconfitti in battaglia i vichinghi cercano sempre un accordo Giurano sui loro bracciali o promettono di convertirsi al cristianesimo Solo in vista di un accordo Uno scambio di ostaggi Terra in cambio di pace Qualunque cosa si è vista e rivista E il più delle volte la colpa è solo tua Tanto desideroso di pace da correre ad accettare le loro condizioni Ma il più delle volte non fanno sul servo Loro non si convertono Non gli importa che gli ostaggi che offrono debbano morire per una promessa non mantenuta E in sostanza non se ne curano E tu amore mio sei sempre stato la vittima Temo che lo stesso accadrà ancora Che vuoi fare? Cioè dicela tu Dicela tu Cioè vabbè Cioè dicela tu 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 L'ho pianto nell'occhio di Ossofor. Tore Odino, udite la mia preghiera. Da che ascolto i miei comandi, invenenite questa doga. Vregr, Vjolnir, Pundr, Freyr, Prumr, Vregr, Tii. Fate ciò che dovete fare. Questa cosa dovrebbe funzionare, secondo te. Bah! Oh! Che è sto ragazzo? Tu prendi la strada giusta. Tu prendi le redini. Addio, signor, mi addio, mio figlio. Non lasciarmi che cade in confusione. Oh Dio, non allontanarti da me. Oh mio Dio, donami il tuo sostegno. Inclina il tuo orecchio verso di me e salvami. Ascolta la mia preghiera, oh Signore. E che il mio grido giunga a te. Inclina il tuo orecchio verso di me. Allora? Grazie a tutti. 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 Sì. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Grazie a tutti. sta ad tutti. però eh Così si fa una tragedia da perché c'è un occhio, cioè va bene a fare la tragedia subito che è tutta una scoprima C'è lo succeso qualcos'altro Ah ecco ecco Infatti Che cos'hai? C'è pure l'altro occhio, bello Non ricevo completamente Sono cieco Sono cieco Scusate Eh dai fatemi se vuoi sapere un po' subito Fatemi sapere cosa succede Dai una svolta per favore Eh Una novità Cosa tutti morti? Che dobbiamo fare? Ma cosa che gli altri sono morti? Tu stai bello, bello, fregno, fregno Un sogno Ecco che ha visto per fortuna una gioia Ha visto qualche terra O qualche altra nave Una terra Cosa? Cosa? Non riesco a vedere Non vedi Non vedi, guarda Non vedi, guarda Cosa è detto che non vede Non spaventarmi Uva Non vedo niente Se sta sognando Cosa è sognato? Cosa è sognato? Ah no, c'è la terra veramente Cosa è sognante Top Finalmente Finalmente Avevi ragione Quello che avevi detto era vero Finalmente Avrei dovuto crederti Tutti avremmo dovuto crederti Perdonati Ti prego, perdona Non devi chiedere perdono Figlio Di Ragnar Perché so Che di profondo Hai sempre creduto E' per questo che siamo qui E' per questo Che siamo qui Che l'altro se la pigliate al culo Rimanendo là con la balena Oh Finalmente una grande gioia per Ube Ragazzi Per fortuna qualcosa di interessante per Ube Allora Diciamo che non ci sono state grandi cose Non mi ha entusiasmato più di tanto questa puntata Sono stata più sensosa del solito Ehm Una puntata Molto soft Adesso vediamo se Nelle ultime tre puntate Meritano un po' più Di commenti positivi Qui al momento Diciamo che vabbè Non lo so fino a che punto Possono essere così ancora Sinceramente non lo so Dato che mancano tre puntate E Un po' più di carne al fuoco Cioè Ce l'avete data Subito praticamente Dopo Ni Ce l'avete dato un po' che niente Così Adesso Datecela ancora Un altro po' Dai Un altro po' di carne Abbiamo fame Arrossiamo sta carne Datecela E Vediamo un po' Ehm Niente Faremo dei commenti generali alla fine Di tutte le puntate Nel momento Accontentiamoci Per quello che abbiamo Però Insomma Ok Ehm Niente Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Fatemi sapere nei commenti Cosa ha pensato di questa puntata In generale Come è andata Diciamo queste sette puntate Per me Insomma Si e no Tra l'alti e bassi E Iscriviti al canale Se non ancora lo avete fatto Attivando la campanellina Per non perdere nessun altro video E noi ci vediamo Alla prossima Ciao